amiche amici ben trovati per questa nuova puntata di tele alera milano siamo a mezzo in provincia di milano perché perché qui abbiamo fatto importanti opere di efficientamento energetico infatti siamo in compagnia dell'architetto roberta marchisio che è responsabile unica della procedimento bentrovati architetto buongiorno grazie per questa possibilità di raccontarvi questo intervento ecco infatti siamo qui apposta con il nostro cameraman per cercare di vedere con i nostri occhi che tipo di intervento è stato fatto allora innanzitutto vorrei premettere che questo intervento è stato finanziato con i fondi complementari del pnr ed era finalizzato come tanti altri fatti in questo periodo all'efficientamento energetico del nostro patrimonio come tanti altri tante altre iniziative sempre con dei termini piuttosto stringenti che grazie a un appaltatore virtuoso siamo riusciti comunque a mantenere infatti le risorse sono state si sono rese disponibili nel 2022 abbiamo fatto la gara e i lavori sono iniziati nel 2023 e sono completati stati completati nel 2023 tra l'altro con dovendo rifare parte di queste opere in quanto quest'anno a luglio c'è stato un violento nubifragio a milano e effettivamente abbiamo già provato quelli che sono i risultati del clima dei cambiamenti climatici al quale tra l'altro noi comunque già in fase di progettazione in fase di esecuzione abbiamo potuto comunque avere un'attenzione particolari quindi diciamo che abbiamo già superato la prova peggiore sì perché questo cappotto che è uno delle opere che erano previste dalla progettazione fatte in esecuzione ha subito una violentissima tempesta con raffiche di vento fino ai 27 chilometri orari e grandine fino ai 7 centimetri di diametro che ovviamente hanno colpito la facciata ma che non hanno portato delle grandi dei grandi dei gravissimi danni e che quindi nel tempo in questi sette mesi siamo riusciti comunque a ripristinare come dicevo il l'intervento le opere erano sostanzialmente una l'efficientamento delle superfici disperdente opache e il rifacimento della della copertura e l'installazione della ventilazione meccanica che aiuta un po il miglioramento della della reazione all'interno degli alloggi quando ci sono degli involucri molto coibentati e così è stato fatto quello che mi vorrei insomma porre l'attenzione è che questo come tanti altri interventi che abbiamo fatto in questo in questi ultimi tre anni sono proprio finalizzati a migliorare quelle che sono le prestazioni degli involucri opachi perché in realtà dalle diagnosi energetiche che vengono fatte in fase di progettazione sono quelli che sono le parti in cui si migliora la prestazione energetica perché ad esempio la sostituzione dei serramenti che molto spesso viene richiesta per la dimensione per la quantità di superficie incidono incide molto poco meno del 6 per cento rispetto alle prestazioni e qui noi in realtà stiamo seguendo quelle che sono un po le direttive europee quindi cercando di con le risorse che abbiamo andare a efficientare il maggior numero di edifici questo perché a brevissimo verrà ratificata in consiglio europeo le pbd4 che è la direttiva europea europea proprio sull'efficientamento degli edifici che impone degli obiettivi progressivi molto stringenti fino al 2050 con la neutralità climatica quindi tutti gli interventi che sta facendo alle sono proprio volti a migliorare il maggior numero di edifici e prepararci così a quelle che sono gli obiettivi progressivi della della direttiva europea imposta davvero un ottimo lavoro grazie all'architetto marchisio che come ricordate ci ha già accompagnato a cesano boscone nelle settimane scorse oggi a mezzo e nei prossimi giorni nelle prossime settimane vedremo altri cantieri e soprattutto vedremo quanto buon lavoro c'è stato alla base di di aler milano che è intervenuta e continua a intervenire dove c'è necessità vi ricordo la nostra mail stampa chiocciola aler.mi.it grazie architetto buon lavoro grazie a voi e noi ci rivediamo la settimana prossima grazie a voi grazie a voi grazie a voi